Pronta? Il Lock Club è tutto. Io vi vedo, vi vedo quando entrate, brillate, chiunque entra da quella porta entra a far parte della nostra famiglia. Ed è della nostra famiglia che abbiamo bisogno in questo momento. Di un luogo, di una casa dove sentirci finalmente liberi di essere chi siamo. E questo posto è il Lock Club. Grazie per la visione! Grazie per la visione!